secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non c'è uomo chitarra sono triste non c'è lui non c'è il più bello però guardate qui io già lo vedo vedo un shitpostino matto 12 questo chi è emanuel è di emanuel un po sicote un po sicote ma che è sto treno barrello ma che è back to back treno livello 500 per cento ma manco se ci pagano oro lo fanno probabilmente non lo fai dal 15 in treno livello 5 barrello non succede che gioco per porco dio mi deve abbuccare quel pesce enorme porca madonna che un persico trota ti becchi subito una carpa coi 1132 ecco b qua madonna me sta qua odio me sta quanta un pesce enorme no ma che vuole quel pesce medio del cazzo ma che ce faccio con sto persico trota da mezzo chilo no se switcha subito mamma mia queste sono delle bestie queste sono delle bestie porco dio ha preso no sto a prendere più sto a prendere più grosso sto a prendere più grosso ma come ha fatto a trollar da carpa coi dorata bam che cazzo vieni no no che cazzo vuoi il pesce più grosso lo vuoi tu no guarda vaffanculo mi sto prendendo il pesciolino di merda il pesce degli stronti come la felpa gg bet mamma mia si sta cazzo di felpa si opera meno male carmeno di ricardo mamma mia gg beng la nuova moda grande felpa che ti blocca le gambe o le grande a lei usa una felpa aspetta frate taggi ma che fai dai dio porco che ci sono le collisioni devi tirà come è andato si è tornato indietro ah ho sbagliato no ragazzi non ci credo ha sbagliato ragazzi che sei andato dall'altra ragazzi ma che c'hai c'hai già mamma sai che non lo vinci te resta dai ma come fai a non fischia a fallo del genere ragazzi 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 no no diego bravo cazzo lo fattirà è già meno male non potevo vive senza probabilmente ma è bentornato grazie per i due mesetti bentornati stalla no il problema è questo no uomo chitarra c'è c'è uomo chitarra no zazzo mi la fai mazza quant'è simpatico bello mazza quant'è simpatico che divertimento rega bello poi però se gli auguri che la madre gli muore in un incidente porco dio non va bene non va bene si è vero non va bene bello figo si faccio pure la lobby io figo per farmi piacere per il culo dal ragazzino dal ragazzino che domani porco dio lo mettono sotto e gli vado a pisciare sul corpo morto fantastico che bello dio porco ciao 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 ma quanto cazzo è figa sofia oh ciao sono ricercatissimi dagli appassionati di fai da te e i prezzi raggiungono a volte i 50 dollari pensa vuol dire quasi 50 euro per qualcosa che avresti gettato via porco dio io ho mio padre che caga come un elefante zì cambiamo un rotolo al giorno praticamente zio vera sono ricco l'apro perché devo fare perché faccio twitch l'apro grazie p di 100 madre thunder bentornato in stalla bellissimo le gioco fa meno spam sei tester di profumi e cosmetici ogni volta che acquistiamo ah oh do e dove vanno e non lo faccio con le cinque dita per un altro motivo beh dai ma che significa frate che qui poi la cosa è che giochi proprio contro la nel senso che guarda qui qui lui conoscendo Monfields lo vedi o sapeva che a parte era già in difficoltà quindi gli vai sotto rete ma secondo me qui lui si aspettava grande colpo sotto le gambe che da quel che ho capito lo spamma e lì tecnicamente col colpo sotto le gambe chiudi la traiettoria cioè sai già che la traiettoria sarà abbastanza su di te qui quindi ce vai perché sono finite le pubblicità di Ronaldo sono finite sono finite le pubblicità di Ronaldo quindi sto Zalo Mazzarri inventate qualcosa leggi i commenti ho controllato il suo profilo si è messo a fare il post ho pensato che avremmo potuto essere amici se più vicini o in altre circostanze e allora si vuole il D eh ehm no 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 te la ricordi? ciao Giammo c'hai tre secondi per uscire da sta stanza DTS che mi hanno derancato stai zitto sai dopo tre mesi come vivi? c'hai 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 tre secondi per uscire da sta stanza DTS che mi hanno derancato stai zitto l'ha detto lui per me ma si mecca Flame e vince lui Tominsky incredibile Flame si blocca all'ultimo un errore terribile quello di Flame che si blocca all'ultimo e Tominsky si infila e se la porta a casa se la porta a casa così Brunsono scioccato nono Forest sesto Federico Olivo settimo un muoricino oh grande spada c'è pure la barba bella folta sono tipo 1 e 77 ma che state a dire ma che si con face ron face ron e si c'ha 15 anni l'ho visto mentre si dissolveva face ron scusate ma face ron e chi cazzo è dalla Rudy grazie per i 5 Mauriccio grazie per sub Mark grazie per i 6 Taran grazie per i 5 grazie bellissimi Rudone grazie oggi sei proprio un tumore Rudy si da grazie mamma mia non ringraziarlo ma bannalo è la madonna ma che cos'è un mostro lo puoi leccare per favore no non parlo bravo ecco grazie sono le 2.55 cosa sta succedendo grazie io volevo vedervi un po' di anime questa sera grazie con le grazie almeno dei 5 5 mesi grazie per le 5 mesi grazie per le 5 mesi strogo totale strogo totale